Una partita finalmente vinta, però sofferta. Finalmente sono arrivati i tre punti in casa, li aspettavamo, abbiamo preparato questa partita tutta la settimana. I ragazzi si stanno impegnando, abbiamo recuperato diversi elementi, il gruppo è ampio. Secondo me possiamo fare bene e dire la nostra, anche se ci serve qualche altro punto per uscire definitivamente da questa zona. Nelle prossime quattro partite ne avremo tre in casa, quindi speriamo di fare punti e continuare su questa strada. Domenica ci aspetta un'altra partita difficile a Maida, proveremo a giocarcela e a dire la nostra. Se continuiamo ad allenarci seriamente come stiamo facendo, portando dai 18 ai 22 elementi al campo martedì, giovedì e venerdì, e continuiamo in questo modo a divertirci, ci toglieremo belle soddisfazioni, sono sicuro, i ragazzi divertiranno.